No, hai ragione Fran, mi sa che punteremo qualcosa di un po' meno No, no, battiamo il record dell'anno scorso, 33, facciamo 34 Eh, ogni anno un round di più No, mettiamo una facchettina in più, esatto, va bene No, potremmo anche fare cifrattone, vediamo un attimo Vediamo, vediamo, dipende Perché c'è da dire che il 40 su 5 non si sta tanto a farlo Perché ci sono i round con i dottori Non lo so, in due non è male Cioè io mi ricordo quando io Dazzo l'hanno fatto il 40 su Kino Ce l'ha messo 6 ore No, su serio ce l'ha messo 6 ore Devo fare, devo veramente fare Andare con il favore che scende dal cammino che mi guarda giocare E mi dice ma che cazzo fai Poi una volta mi ricordo che avevo fatto con un altro ragazzo che non mi ricordo più chi era Il 50 3 su 5 O forse era 60 Coscino No, non era Coscino Ma ancora non c'era YouTube Oh, fra su più No, sono liberato Mi sono liberato Io so che ho fatto 45 to 5 senza di voi Senza di noi Vabbè io No, io ho iniziato a fare i roundoni da Black Ops 2 E con il mobbo più bebe Che loro berano Io lo facevo con Debe Mi ricordo ancora Un bellissimo 15 anni fra Che giocava con Debe E ogni 5 minuti bestemmiava E gli diceva Debe Ma Debe cosa succede? Addio E lui Tante cose Tante cose Aspetta a prendere l'emmo Che qua Carico Ok Buon bravo Tiro anche una scimmia Dai che cos'è Le uso almeno ogni tanto Quando vuoi fra Vada vada Ok Meno male perché ho finito i colpi E Oh doppi punti Prese Bene Bene Ok Eccellente Ottimo Benissimo Un altro colpo e muoio Bene Perché Quando gli sparo con il fucile a pompa Sembra praticamente che gli sia piaciuto un solde Dico Che cazzo Oh il mio obiettivo è arrivare a 100.000 punti Comunque Mi sono più dettagli Prima adesso Madonna mia Con la K21 direi che è anche fattibile Però non ci arriverò mai I punti li fai L'unico modo per perdere i punti È se ti prendi un'arma al muro Potenziata E prendi le ammo Sì è vero è vero O se vai a terra E devi riprendere le bibite ogni volta No dio E stavo per farmi chiudere Ma mi sono liberato Con un gesto di Eroica Come Udi Con questo gioco Potremmo fare degli escape assurdi Assurdi Sì 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 Vabbè poi hanno creato Cold War Che praticamente Se vai a terra Ti prendi pure Infatti La cosa divertente Sai qual è stata Quando mi hanno fatto L'unico video su Cold War Quando ancora Cold War Era leggermente più complicato Del previsto Ok Sì sì Poi ci hanno aggiunto così Tanta di quella merda Ma non nel senso di merda positiva Ma di merda negativa Che tu se andavi a terra Ti prendevano per i coci Ma veramente Mannaggia No ma Cold War Non mi ha mai Intrigato troppo Effettivamente Eh ma guarda Se te non piaceva Cold War L'ultimo Quello con Vanguard Vomitavi Letteramente dicevi È vero che l'ha fatta la trade Non l'ho neanche visto Ti dico la verità Guarda Guarda Ti dico Ti posso dire Ti dico semplicemente Una cosa che ti farà incazzare Va bene Eh Pronto Non guadagno punti Se colpisci i zombie Non guardare Non guadagno punti Non guardare i miei punti Non guadagno punti Se colpisci i zombie Ah su Vanguard Non capisco Ah Eh Guarda chi ha scritto Su Whatsapp Madonna mia Avevo preso sonno Avevo preso sonno Cioè si è addormentato Voglio nei commenti Un gigantismo Sono fan No fra Porca puttana Se sono andato a terra Voglio almeno 100 commenti Con scritto Jimbo Vaffanculo Stavo Stavo Bellamente leggendo Il messaggio di Jimbo Guarda Guarda Si è arrivata la voce Non pensante Fuori dai giochi In tutto questo Io sono a terra Fra Si sta arrivando Sta arrivando Da dove arrivi L'ascensore Stavo Sono andato a terra Per leggere il tuo messaggio Dite tutti così Voglio riscarsi Ok bravissimo fra Bravissimo fra Me la son vista bruttissima Vado a prendere giacca Ciao Gianmarco Aspetta che vado a terra di nuovo Ciao Mirko Buon Natale Buon Natale No aspetta Buon 2022 Ragazzi Ma se Natale è domani Mi sa che Siamo già nel futuro Cazzo Altro che il metaverso Buon 2022 Ciao anche a te Gianmarco Madonna mia Cioè sono già da terra due volte In 29 round Ciao Fabio Ciao Francesco Ciao Gianmarco Sto streamando Signor Gianmarco Se vuole vedere Intanto Non me ne frega Un cazzo Ma anche bene Mi ha preso Nel cuoricino Ma senza Invece di Cioè io a lei Non le ho più scritto Perché mi ha offeso Però ho scritto Sono andato via Fraio Ho scritto a Debe Ho scritto a Debe Se viene a salutarci Ma non mi ha risposto Cose da passi A parte che là Hey Siri Che ora è a Brisbane Le 10 del mattino In questo momento Le cose Mi ha detto qualcosa Le cose 28 10 del mattino Ore 1 0 No Non possono essere le 10 del mattino Dio buon Gimbo Più 12 ore No ma dai Mojimbo Non è più 12 Ehi Siri Che ora è a Brisbane Australia Oh no Voglio Cosa ha detto A Canberra Quindi non ha capito un cazzo Sono le 8 e 28 Ma io ho detto Brisbane Grazie per l'informazione Di servizio Che a Canberra Sono le 8 e 28 Ehi Siri Che ora è a Brisbane Australia Ecco le 7 e 28 E ora è? Le 7 e 28 del mattino Allora io adesso devo andare in bagno A fare la cacca Spero che non arrivi il cane A mordermi i piedi Che cosa scusi? Ho preso un cane Mirko Hai preso un cane tutto tuo? Cioè l'ho regalato per Natalia La mia mamma Ah ok Bene Che cane è? Un piccolo bassotto nano Ah Ce lo dovrei mostrare Jimbo Certo Comparirà nel video No 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 Niente montaggio Non ha mai fatto un editing nella sua vita Non credo L'ha fatto L'ha fatto L'ha fatto In realtà l'ha fatto Nel video dove c'è Nella Sto morendo Sto morendo Sto super Ha fatto un solo Unito montaggio Mi piace come fra gli anni passano ma il tuo microfono Fa sempre più schifo Lo so lo so No la cosa che è bella è che il 2023 metà verso NFT e qua nel canale di Zombibest bisogna ancora scoprire la Facecam Esatto Chi ti dice che non ho la Facecam attiva? Non di Comunque faccio notare come Daz stia giocando Fra Faccio notare come Daz stia giocando a Dark Souls Ha cominciato a giocare a Dark Souls Si e non si è venuto nella zombata natalizia Ma dio calma sono scarso come la merda Ok Stavo per Fare la cazzata di nuovo Ma ciao Ma ci qualcuno si è svegliato qui Ma ciao Ma ciao Se fosse così carino anche con gli amici E non solo con l'altro E non solo con l'altro E c'è E biru 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 E biru 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 Sto sentendo E non mi ero mutato No ti eri mutato No decisamente no Ma ciao Ma tu mi vedi coi cuffioni in testa E mi dirai ma chi è questo qui Secondo me sta cercando di soffocarsi Nel sonno A plena è notturna Sta cercando di praticare Da quanto è che ce l'hai Jimbo? Da 6 giorni 6 giorni? Ha già cacato e pisciato dappertutto Esatto esatto Mi hai fatto anche la pipì sul tappeto di off-white vero? Bravissimo Oddio Ma cazzo che ti piscia sulle scarpe cazzo Guarda se mi morde le Jordan Io penso di uccidere No non si dice il signor Youtube Non potrei mai La fletta che sicuramente sta ascoltando questo video Però sai che non ho comprato il quick Dai ma tu guarda Vieni qui Aspetta posso risponderti nella maniera più charred possibile e immaginabile Prendi tab sono andato a tab Tu stai dicendo che tutti i quick revive che ho comprato fino ad ora sono stati inutili Sono inutili Io te l'ho detto No boh allora io non compro più quick Vai Ora mi ha detto che è stato 10 No boh no no basta Fra ho finito i colpi Eh siamo in due Allora prendo la bibita delle tre armi a sto punto E' un problema però Basta niente quick Niente quick Eh se Eh se Eh se Come sono stato io Allora Francisco Ho comprato anch'io lo stake out che vorrei potenziare a questo punto Lo so però almeno abbiamo qualcosa che spara Dai un colpetto di freeze Ci metti meno colpi per mostrargli con lo stake out Allora tu hai anche ragione Fabi Eeeh Però mi sa che sono gli ultimi questi quindi finiamoci lì così Stai parlando il cane che fa la pipì e mi ha appena fatto la pipì sui piedi Sì Ma cos'hai fatto? Faccia di culo di cani Molto bene Io perché lo sono presentemente che sto pensando in questo momento Jimbo lo sta guardando in maniera omicina No vabbè ma a due mesi ci sta Cioè nel senso ci sta In un certo punto Ma sei tornato qua sopra tu Mi sa che adesso arriva The Doctor Fra Ma sei tornato qua